Il grande Stilista Michele Spanò, stilista dei capelli, del trucco, della bellezza della donna. Quando le cause di solidarietà chiamano Michele arriva e presta tutta la sua professionalità. Intanto questa sera che cosa ti sei dedicato in particolare? Hai fatto molto backstage fino adesso? Fino adesso sì, devo dire è andata molto bene, abbiamo lavorato molto dietro le quinte e sono molto soddisfatto di aver creato questa sfilata che attenderemo fra pochi minuti e presenteremo un po' queste acconciature che mi sono ispirato un po' a Greschelli perché vedendo questa location non potevo che dare un tocco di classe. Tra l'altro Greschelli tu mi insegni ha fatto molta solidarietà durante la sua vita. C'è un motivo per cui io la stimo molto e sono sempre innamorato di questo grande personaggio dove io la ricordo giustamente anche per i capelli perché è il mio lavoro. Insieme a te ho anche una splendida giovane attrice, ce la presenti? Sì, è Michele, è una giovanissima attrice che si è approcciata da poco al mondo dello spettacolo e così la posso presentare, molto bella, molto brava e devo dire che anche lei questa sera fa parte della Kermesse di questa sera. Anche Michele pur essendo molto giovane è già sensibile alle cause benefiche ed umanitarie. Allora Michele intanto raccontaci, lo so che insomma non è semplice in poche parole per i videoascoltatori, però che cosa hai fatto sino ad oggi? Eh, sono un po' scaramantica, però comunque... Quello che si può dire? Quello che si può dire è allora, da quando ho 16 anni lavoro come fotomodella e da due anni che sto comunque mettendomi in strada per il cinema e quindi con giletti, tutte queste cose belle. Tu lo sai che più diventerai famosa più ti toccherà rappresentare l'Italia, il tuo bel paese, nelle cause di solidarietà e beneficenza, dovrai prestare il tuo bel volto. Assolutamente, molto volentieri, molto volentieri. Hai già cominciato con stasera, per sé? Altri eventi, altri eventi, assolutamente la beneficenza è tanto per me comunque. Splendido. Allora Michele, chiudiamo con un invito ai nostri videoascoltatori alla bellezza, non solo, il tuo colore? Preferito il biondo, il biondo è il massimo, forever. Ma anche con le sfumature? Anche sì, grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.